Cari amici testimoni di Geova e pubblico in generale, qui voi potete vedere questa rivista Svegliatevi di data 22 giugno 1961 pagina 8, forse oggi nascosto molto bene dalla società Torre di Guardia, e che recita come segue. Che cosa avverrà nel futuro? Gesù disse. Ma quando queste cose cominciano ad avvenire, alzatevi e levate il capo, perché la vostra liberazione si avvicina. Veramente io vi dico. Questa generazione non passerà affatto finché tutte le cose non siano avvenute. Ma prestate attenzione a voi stessi onde i vostri cuori non siano aggravati da ingordicia, ubriachezza e ansietà della vita, e non de quel giorno non vi colga all'improvviso come un laccio. Poiché esso verrà sopra tutti, quelli che abitano sulla superficie di tutta la terra. Luca capitolo 21 versetti 28, 32, 34, 35 Di quale giorno parlava Gesù? Dell'inizio della terza guerra mondiale? No. Sofonia capitolo 2 versetto 3 lo indica come il giorno dell'ira di Geova. Apocalisse capitolo 16 versetto 16 lo chiama la guerra del gran giorno di Dio l'onnipotente, Armageddon. Questa guerra scoppierà nel ventesimo secolo, nel ventesimo secolo, nel ventesimo secolo. E finisce così. Divamperà nel tempo stabilito, come è avvenuto delle guerre, della penuaria di viveri, dei terremoti, e degli altri avvenimenti predetti. Questa generazione vedrà il suo adempimento. Nel libro intitolato Conosceranno che io sono Geova, che voi potete vedere in suo monitor, pubblicato in 1973. Nella pagina 216, paragrafo 9, basso il titolo, la spada di Geova contro tutti quelli di carne. La società torre di guardia ci disse come segue. Fra breve, entro il nostro ventesimo secolo, la battaglia nel giorno di Geova comincerà contro il moderno antitipo di Gerusalemme, la cristianità. Dimmi amico o amica testimone di Geova. Puoi ancora credere tu che questa organizzazione di pubblicazioni religiosa può essere diretta dallo Spirito Santo con un Gesù Cristo responsabile per condurre l'Armageddon e che gli forni di cibo spirituale suo schiavo fedele e discreto sulla terra, assicurandoli che questa battaglia del gran giorno di Dio l'Onnipotente, Armageddon accadrebbe entro del ventesimo secolo, e che questa generazione del 1914 non passerà affatto finché tutte queste cose non siano avvenute, cioè, non più al di là 1994. E' per questo motivo che i testimoni di Geova sono oggi conosciuti mondialmente come i più grandi falsi profeti moderni che avevano assicurato alle nazioni che la fine del mondo accadrebbe prima da finire il ventesimo secolo. Questa rivista che voi potete vedere qui è la prova inconfutabile di quella davvero buona noticia annunciata alle nazioni a partire da 1961 in poi per parte di questo falso schiavo fedele e discreto bugiardo mai scelto per Gesù Cristo in 1919. E così la società ha la faccia tosta di dire ai membri che loro non hanno mai profetizzato la fine del mondo per accadere prima della fine del venti secolo, invece loro hanno scomparso la frase venti secolo o ventesimo secolo dei loro riviste e libri pubblicati prima dal secolo 21. Ricordate. Una religione che insegna menzoglie non può essere vera. La Torre di Guardia 1 dicembre de 1991 pagina 7